Luis Anna Messeri si cimenta nella realizzazione di un secondo piatto, un sontuoso arrosto, ma delicato e furbo come dice lei. Facciamo il rotolo di tacchino in crosta di speck. Ingredienti 1 kg di carne macinata di tacchino, 1 kg di ricotta, 150 g di formaggio grattugiato, scorza di un limone, un mazzetto di timo fresco, 1 mela dadini, 2 tuorli, 80 g di grigli di noci, 20 fette di speck, 1 bicchiere di vimo bianco, olio evo, sale e pepe, brodo vegetale e cb procedimento in una ciotola mettiamo il macinato di pollo, la ricotta devono essere in egual misura, amalgamiamo, uniamo 2 tuorli, il formaggio grattugiato, la mela tagliata dadini piccoli, un pochino di timo, i grigli di noci tritati grossolanamente, la scorza grattugiata di un limone, saliamo, pepiamo e mescoliamo il tutto. Aiutandoci con le mani diamo la forma di un polpettone. Su della carta forno sovrapponiamo le fette di speck formando una specie di letto, ne mettiamo anche 4 in cima e 4 in fondo, mettiamo al centro il polpettone e richiudiamo le fette di speck. Lo leghiamo con lo spago, mettiamo in una pirofila. Aggiungiamo un pochino di brodo, un bicchiere di vino bianco e inforniamo a 180 grado per un'ora. Se vediamo secca aggiungiamo del brodo. Lo tagliamo a fette, da freddo, e serviamo su un letto di cavolo rosso, fettine di arancia e carote. Decoriamo con chicchicchi di melograno e fettine di mela. Buon anno!